Intese per la vita Esaltante sensazione introduce il colloquio là per i giardini, tra la nonna che è attenta a spingere la nipote seduta al passeggino. Tra soli due anni di smorfie ed un'età nel tempo maturata, parole corrono intense, qual tra due pensatori consumati. Estranei non si curano delle continue interlocuzioni, cosa possono dirsi di comune le distanti generazioni? Eppure esse accorte si domandano e curiose si rispondono. Alla fine intuizione si afferra che loro, intese, si confrontano. Colloquio sicuro si tende tra persone che si amano, chiamate a tessere accordi tra il confuso genere umano.